Questa è la faccia di un uomo che non è stato invitato all'evento ufficiale di Parigi per la presentazione dell'Honor View 20 e questa è la faccia sconsolata di un uomo che ha speso 600 euro per avere in anteprima un Honor View 20 e questa è la faccia triste e avvilita di un uomo che piangerà se non riceverà almeno 100 like a questa video recensione dell'Honor View 20 Beh scusate l'intro diversa dal solito ma capite bene che dopo tutti gli sforzi, i giri fatti e soldi spesi per avere in super anteprima questo telefono vedere che tanti l'hanno ricevuto all'evento ufficiale a Parigi un po' di rabbia capite che salta fuori ma in ogni caso questo mi ha permesso di provarlo già per due settimane un tempo secondo me necessario per capirne le sue, credetemi, incredibili qualità ma cominciamo a parlare subito di questo foro su display è una soluzione che funziona? Beh ve lo dico sinceramente, non sarà la soluzione finale ma probabilmente è solo una moda di passaggio però funziona e funziona alla grande qui non si ha nessuna rinuncia significativa le icone delle notifiche si vedono completamente e tutti i contenuti grazie alla sapiente ottimizzazione software di Honor sono visibili in modo perfetto c'è inoltre la furbata della fotocamera frontale che scompare quando tiriamo la tendina dei setting rapidi nascondendosi così nella barra superiore ed insomma qui si ha subito accesso alla fotocamera frontale senza manovre particolari e senza la presenza di delicati meccanismi mantenendo comunque una immersività nella visione dei contenuti che è davvero elevata l'unico micro appunto è dato dalla non centratura del foro con la curva del display che agli esteti più fini potrebbe far storcere il naso ma è stata evidentemente una cosa necessaria per non rendere troppo vistosa la barra nera che via software va a nascondere questo piccolo foro in ogni caso posso fare mille giri di parole ma l'unica cosa che mi sento di dirvi è di prendervi del tempo e di andare a vedere in qualche centro commerciale questo Honor View 20 in modo che possiate capire perché ritengo questa soluzione davvero centrata ma naturalmente non posso parlarvi così bene della parte frontale e non parlarvi anche di questo bel display e lo so che molti di voi storceranno il naso per la tecnologia ovvero IPS LCD ma siamo di fronte probabilmente ad uno dei migliori LCD mai visti la risoluzione è la classica Full HD Plus per una diagonale da 6,4 pollici e il confronto specifico con un AMOLED tutto sommato di qualità come quello montato su un Oppo o un One Plus fa capire che anche in questo senso il lavoro svolto da Honor è tanto i colori sono sgargianti, saturi il giusto e se da un lato abbiamo i bianchi classici ovvero ottimi di un LCD dall'altro abbiamo una profondità dei neri finalmente elevata che per un occhio normale raggiunge tranquillamente i livelli di un AMOLED la luminosità massima è assolutamente soddisfacente così come la minima che scende tanto da non dare fastidio insomma se non fosse per questo piccolo foretto saremmo davvero vicini al frontale perfetto anche perché le cornici sono estremamente sottili su tutti e tra i lati e leggermente meno ma comunque tra i migliori della categoria per quanto riguarda lo spessore del cosiddetto mento la capsula auricolare è sapientemente nascosta nella cornice superiore e sorpresa incorpora anche un LED di notifica non tra i più visibili ma comunque c'è ed aiuta ma questo telefono ha fatto parlare di sé non solo per questo piccolo foretto nella parte frontale ma anche per il retro con una lavorazione AV che a prima vista può lasciare un po' sconcertati la realtà però è che questa sorta di lavorazione è molto meno visibile di quello che sembra nelle foto e risalta solo ad una certa inclinazione rendendosi altrimenti invisibile in tutti gli altri casi e così secondo me Honor è riuscita ad accontentare sia chi voleva un retro diverso dal solito un po' tamarro sia chi invece voleva una soluzione più pulita sulla parte superiore abbiamo poi una fotocamera singola da ben 48 megapixel di cui parleremo tra poco abbinata ad un sensore per la profondità TOF ad un flash LED e anche qui la soluzione stilistica sinceramente la trovo ben riuscita anche se le fotocamere fanno il solito piccolo scalino che se non usate una cover produce un fastidioso dondolio abbiamo poi un sensore per lo sblocco posto quasi a filo con la scocca ma messo in una buona posizione e che funziona molto bene per quanto riguarda la precisione ma non è il più rapido mai visto su uno smartphone e qui forse entriamo nell'unico reale difetto di questo smartphone ma che però potrebbe essere provvisorio infatti e magari è solo una convinzione personale trovo il sensore posteriore scomodo perché costringe per esempio ad afferrare sempre lo smartphone quando lo vogliamo sbloccare e in generale è una soluzione secondo me meno naturale abbiamo anche lo sblocco con il volto che potrebbe ovviare a questo problema ma qui non ho trovato la stessa efficienza che ho visto per esempio sul Mi 8 o su One Plus spesse volte infatti il volto non viene riconosciuto anche se a dirla tutta quando lo fa abbastanza rapido magari migliorerà con gli aggiornamenti software ma un bel sensore sotto display sarebbe stato sinceramente oro colato e sono tutte piccolezze sia chiaro ma in un mercato sempre più competitivo anche i dettagli fanno la differenza e a proposito di dettagli non lo è la presenza sulla cornice superiore di un jack audio davvero raro ma che per molti può fare la differenza c'è poi una porta infrarossi che va a completare assieme all'NFC e al Bluetooth 5.0 e ad un modulo wifi che si è dimostrato sempre affidabile una gamma di connessioni che è davvero ultra completa e ovviamente non manca un carrellino con due sim senza però la possibilità di espansione della memoria e nella parte inferiore una porta USB Type-C in versione 3.1 assieme ovviamente ad uno speaker che però è mono e non funziona quindi in contemporanea con la capsula auricolare ma è tutto sommato potente e di buona qualità e comunque la bellezza estetica di questo Honor è supportato da una componentistica interna davvero di livello a cominciare dal processore abbiamo infatti un Kirin 980 una delle prime soluzioni con tecnologia a 7nm che muove la Magic OS senza la minima incertezza davvero sorprendente la reattività del telefono che impressiona anche per la maturità e stabilità del software sopporta lunghe sessioni di gaming senza scaldare minimamente le personalizzazioni di questa interfaccia sono molte le classiche comode gesture ed è naturalmente possibile dare varie forme al telefono con i temi personalizzati anche se alla fine sono convinto sceglierete sempre sfondi chiari per potervi guardare quel piccolo foro strano ma fidatevi che se lo acquisterete farete proprio così e questo Kirin si dimostra comunque performante anche sulla batteria da 4000 mAh che nel mio classico utilizzo mi ha sempre permesso di coprire due giorni completi con in totale almeno 6-7 ore di schermo acceso è vero questo valore potrebbe scendere leggermente però se deciderete di disattivare il risparmio energetico su tutte le applicazioni infatti su questo telefono proprio risparmio energetico è decisamente aggressivo e quindi se volete essere notificati da tutte le app e subito dovrete necessariamente andare a modificarle una a una io ho deciso di fare una via di mezzo quindi con alcune app ho disattivato e con altre ho lasciato attivo e tutto sommato è una soluzione che mi ha decisamente convinto come mi ha assolutamente convinto anche il comparto fotocamera che come con Oppo sono riuscito a sfruttare la grande realizzando oltre 200 scatti il software è ricchissimo di personalizzazione e di effetti e potrei fare un video di 10 minuti solo mostrandovi tutto quello che si può fare ma gli aspetti principali sono dati dalla presenza dell'intelligenza artificiale che fa il suo e soprattutto dalla funzione ultra chiarezza disponibile nel menu nascosto e questa quando attiva soprattutto in condizioni di buona luce permette di ottenere degli scatti che fino a qualche tempo fa erano inimmaginabili per definizione riuscirete infatti anche in foto panoramiche a cogliere i dettagli e poterle così utilizzare anche per qualche stampa più grande del solito per il resto in ogni caso non siamo di fronte alla miglior fotocamera in assoluto sul mercato dimostrando ottime prestazioni di giorno con un autofocus velocissimo buona definizione e nitidezza anche quando si scatta a 12 megapixel l'effetto sfocatura sulla camera principale dona risultati estremamente piacevoli e credibili anche se la scontornatura del soggetto deve essere migliorata inoltre questo effetto è possibile solo sulle persone e quindi quando inquadriamo un viso mentre non viene attivato per esempio per foto su animali o fiori un vero peccato questa sua scarsa efficienza nello scontornare gli oggetti è amplificata se provate a realizzare foto tipo studio dove i risultati ottenuti sono decisamente artefatti dove però la differenza con i top risulta ancora più marcata è di sera quando mi sono trovato spesso con errori nella bilanciatura del bianco e con foto che risentono in modo significativo della presenza di grana digitale sia chiaro le foto non sono male ma la differenza con l'oppo rx 17 pro per esempio è davvero notevole le cose migliorano attivando la modalità notte ma non abbastanza da poterlo definire un top in questo senso insomma dal mio punto di vista ottimi i risultati ottenuti di giorno dove grazie ai 48 megapixel si riescono ad ottenere immagini che altri si sognano meno purtroppo di notte nella media invece la fotocamera frontale da 21 megapixel con buoni dettagli ottimo controllo dell'esposizione ma anche qui un effetto sfocatura che soprattutto nello scontornare non è dei migliori in ogni caso si è dimostrata assolutamente adeguata per l'utilizzo social ottimi fini video dove si può apprezzare la stabilizzazione digitale che si dimostra estremamente efficiente soprattutto di giorno la definizione e la velocità buona della messa a fuoco manca invece la stabilizzazione nei video nella fotocamera frontale scelta comune anche di altri produttori ma che io non riesco a capire visto che viene realizzata via software insomma in conclusione un telefono che spicca sopra tutti gli altri per design mantenendo delle dimensioni e un peso che a dispetto del grande display si sono dimostrate convincenti anche per maneggevolezza nell'utilizzo di tutti i giorni al netto della mancanza di un sensore sotto il display e della certificazione ip68 ed insomma se siete tra quelli che non hanno mai sopportato il notch secondo me in questo telefono trovate l'alternativa ideale abbinata poi ad un design diverso dal solito e se volete acquistarlo beh potete farlo dal link che vi lascio qua sotto in descrizione come potete mettere un like e condividere questo video che per me è molto importante beh questo è tutto un saluto da Daniele Pintus grazie a tutti